buon pomeriggio a tutti benvenuti a automotive forum live e benvenuta a giulia corsi grazie di essere qui giulia grazie a voi giulia è parte della famiglia birindelli e parte del management team della birindelli che è un dealer attivo da oltre 50 anni per i brand premium bmw e mini nella nella zona della toscana un dealer che ha una grande una grande tradizione e tu giulia sei la terza generazione terza generazione esattamente io mia sorella siamo una terza generazione si terza generazione è un dealer che nel 2021 ha venduto più di 5.000 macchine con un fatturato di 165 milioni di euro e quindi una lunga storia un lungo onere che portate avanti bel bagaglio insomma da tanti anni si bella responsabilità tutti occupi di amministrazione finanza giusto sì io sono nel reparto amministrativo dell'azienda sì ascolta e quindi insomma ormai hai maturato un'esperienza che ti ha portato anche a vivere quest'ultimo periodo che immagino non sia stato facile da attraversare né per chi lavora assieme a voi né per voi che portate avanti l'azienda sì allora la pandemia devo dire che ha cambiato le esigenze di tutti i nostri clienti e noi come birindelli auto però fin da subito abbiamo cercato appunto di trasformare diciamo questa criticità in un'opportunità questo in che modo abbiamo quindi cercato di accelerare tutti quelli che sono i processi di digitalizzazione abbiamo attraverso il nostro sito web i social abbiamo cercato di ricreare proprio un'esperienza digitale per gli utenti e quindi anche per i nostri clienti quindi facendola diciamo vivere con continuità adesso che solo adesso diciamo che ci apprestiamo un po' a ritornare alla normalità cerchiamo di far tesoro di quello che abbiamo imparato diciamo in questo momento difficile della pandemia trasportando tutto tutto quello che abbiamo creato nel digitale nel day by day diciamo nelle nostre concessionarie e ovviamente noi come birindelli appunto abbiamo sempre fatto anche degli eventi locali che è stato una sorta di insomma un modo per premiare tutta la nostra diciamo tra virgolette tutta la nostra clientela e per creare appunto sempre più un rapporto di fiducia nei nostri clienti e curando curando ogni dettaglio nei particolari e cercando appunto di avere una gestione premium appunto di tutti quei coloro che insomma i nostri clienti e potenziali clienti insomma che si avvicinano al nostro brand ecco senti ma credo che sia venuto il momento adesso di smetterla forse di parlare e di fare domande legate alla pandemia perché credo che potrebbe essere questo il momento nel quale chiedere invece che cosa quali sono le strategie post pandemia no lo vedo anche magari come come un atteggiamento costruttivo bene augurante e speranzoso quindi quello che ti vorrei chiedere si è sempre investito moltissimo specialmente i brand premium come quelli che voi rappresentate no sulla customer experience quindi i vostri showroom sono sicuramente fantastici gli eventi locali che citavi sono sicuramente memorabili ecco ne in questo in questo inizio in questo proseguio del 2022 tu credi che si potrà tornare a fare quel tipo di esperienza ha ancora senso oppure le persone si sono abituate magari come stavi dicendo ad essere gestite più digitalmente noi cerchiamo appunto di diciamo sviluppare entrambe sia diciamo cercare di ricreare un'esperienza fisico digitale attraverso appunto tutti i nostri servizi e strumenti all'interno appunto dei nostri nel nostro sito dei nostri social per i clienti però per noi è anche importante il contatto diretto con i nostri clienti cioè cercare di portarli appunto nei nostri showroom per capire bene tutte le loro esigenze e cercare di dare più informazioni possibili quindi il rapporto comunque appunto di fisico diciamo di tutti i giorni a contatto col cliente con le varie problematiche anche è molto importante per noi proprio per capire quello di cui il cliente stesso necessita ugualmente anche sfruttando molto quello che sono oggi tutte le nuove tecnologie infatti proprio per questo noi all'interno anche della nostra azienda abbiamo introdotto una nuova figura manageriale che ci sta appunto portando a una trasformazione diciamo di tutti i nostri processi proprio perché appunto controllando tutti i nostri dati controllando anche quello che succede avendo attraverso degli strumenti all'interno delle nostre concessionarie solo in questo modo potremmo riuscire anche bene a capire quelle che sono i nuovi bisogni dei nostri clienti ecco tu hai parlato di riorganizzazione dei processi, hai parlato di digitalizzazione e immagino che questo abbia portato a un efficientamento dei vostri processi di lavoro ma con un impatto anche sulle risorse e sulle persone abbiamo visto che l'evoluzione tecnologica ha portato con sé tu citavi prima l'inserimento di questo manager anche nuove figure e nuovi profili in concessionaria ma parliamo anche del product genius, parliamo del CRM manager, parliamo dell'innovation manager insomma ci sono profili che probabilmente anche quando hai iniziato tu forse ancora non c'erano in concessionaria quindi quanto è importante è avere questo tipo di figure, quali aspettative hanno e come le gestite all'interno della vostra organizzazione? Allora per noi è molto importante il coinvolgimento delle persone a tutti i livelli diciamo top e middle management e quindi cerchiamo sempre di condividere tutte le informazioni della nostra azienda anche appunto questo nuovo strumento di analisi che abbiamo appunto introdotto per ottimizzare come dicevi tutti i nostri processi quindi per noi è molto importante coinvolgere tutti i nostri collaboratori perché noi crediamo molto nelle persone, nella loro professionalità, nella loro competenza investiamo continuamente in corsi di formazione avvalendosi appunto anche di aziende esterne e poiché appunto noi e noi oltre appunto al digital manager abbiamo introdotto in azienda due nuove figure sia a livello operativo che strategico il customer life cycle manager appunto che abbiamo proprio un ufficio dedicato di CRM che continuamente attraverso un costante controllo contatto scusi del cliente appunto monitora un po' quello che sono tutte le varie problematiche che il cliente stesso, ogni singolo cliente stesso può avere e appunto il venditore web che infatti è una figura che per noi ad oggi è molto importante perché ecco le vendite online stanno avendo insomma un grosso incremento e noi cerchiamo di analizzare tutte le varie problematiche cercando di stare attenti anche a ascoltare tutte le voci dei vari collaboratori di tutti i nostri stakeholders e infatti il nostro clima aziendale se non ci credessimo insomma non andremo avanti a investire sulle persone stesse appunto senti una delle conseguenze insomma della pandemia è stata sicuramente l'accelerazione verso nuove forme di mobilità verso nuovi prodotti le case automobilistiche hanno probabilmente fatto un salto in avanti di 5 anni rispetto a quello che si pensava e quindi anche quella stessa che voi rappresentate i veicoli elettrici stanno cominciando ad avere una quota di mercato significativa e questo porta con sé ovviamente tutta una serie di dinamiche differenti dal modo tradizionale nel quale venivano vendute e gestite le macchine fino adesso quindi quello che ti chiedo io è quello che vorrei chiederti è come vi state preparando e come state operando per affrontare questo grande cambiamento allora questo diciamo che questo titolo è l'attenzione di tutta la rete distributiva noi con BMW insieme anche ad altri insomma consulenti di settore stiamo insomma facendo effettuando insomma un piano di investimento abbiamo fatto un audit all'interno di tutte le nostre concessionarie e ad oggi abbiamo 40 punti di ricarica quindi di colonnine e completi appunto di ed una revisione completa e upgrade appunto degli stessi quindi stiamo portando avanti i progetti appunto di sostenibilità a 360 gradi quindi noi in primis stiamo lavorando appunto proprio sulla cultura di tutti i nostri collaboratori affinché possiamo per primi diffondere diciamo il messaggio e quindi avere, diffondere questa attenzione sul tema che sicuramente sarà l'elettrico e l'elettrico sarà tutti i nostri prodotti ovviamente le nostre auto avranno appunto questo percorso questa fine e noi in azienda abbiamo già un abbiamo già creato un brand il Bitindelli Green che è appunto nato per promuovere proprio iniziative sul tema ambientale abbiamo proprio un Green Team cioè che sono appunto un gruppo di nostri ragazzi e anche altre persone che vengono dall'esterno che attraverso appunto eventi locali cerca di dare informazioni a tutti gli utenti su quello che sarà appunto il futuro e insomma noi ci crediamo vogliamo essere divulgatori appunto di questo cambiamento che sicuramente cambierà molto le nostre strutture e quindi avrà un grosso impatto sulle nostre strutture ma non possiamo andare indietro dobbiamo andare avanti e vedere quello che sarà il futuro e quindi sicuramente andrà in quella direzione insomma Quindi scusa, perdonami oltre che una responsabilità commerciale è anche forse una sorta di responsabilità sociale da parte del dealer nei confronti della vostra comunità Sicuramente sicuramente ti dico solo questo che noi praticamente l'anno scorso durante l'estate abbiamo avuto questa abbiamo fatto questa iniziativa e siamo andati anche attraverso una hollus del territorio che abbiamo qui a raccogliere tutti i muzziconi di sigarette insomma in gran parte delle spiagge della Toscana quindi tutti i nostri ragazzi insomma alcuni dei nostri ragazzi del nostro gruppo sono proprio andati e è stata un'iniziativa che ha avuto molta risonanza perché comunque è proprio un avvicinarsi a quello che è diciamo un po' il tema del futuro che è ovviamente l'attenzione all'ambiente e quindi anche trasformata anche nel mondo dell'automotive per forza Benissimo grazie grazie Giulia per questo contributo noi abbiamo esaurito il nostro tempo di esposizione e siamo stati molto felici di poter ospitare te e la tua famiglia grazie a voi di questa opportunità davvero e ci vediamo presto magari all'Automotive Dealer Day 2022 senz'altro grazie grazie a tutti